Un saluto a tutte le donne, mi chiamo Clarissa Bartolini. Sono sorda e faccio parte di varie associazioni che si occupano di violenza sulle donne con disabilità e sordità in varie parti d'Italia. Supporto la campagna dell'associazione DIRE affinché questo video possa essere diffuso e sensibilizzare tutte le donne con disabilità. La violenza contro le donne ha radici profonde nella nostra società e cultura patriarcali dove uomo e donna sono disuguali, la donna è rilegata in una posizione di inferiorità. Secondo l'Istat in Italia 7 milioni di donne hanno avuto un'esperienza di violenza. A livello mondiale una donna su tre è vittima di violenza. Le violenze maschili contro le donne non sono solo lividi, violenza fisica o stupro e violenza sessuale, ma c'è anche il controllo economico che il partner o ex partner agisce sulla donna. Violenza economica e infine la violenza invisibile, ma che arriva a distruggere mentalmente e fisicamente una donna. La violenza psicologica. La minaccia di perdere i propri figli e la violenza assistita sui bambini è spesso collegato alla violenza esercitata. Ti senti sola nel tuo dolore. Capisci che nella relazione con la persona che dice o diceva di amarti in realtà provi solo sofferenza, dice di essere geloso e ti priva della rete familiare amicale. Sei sola e ti sembra impossibile che l'uomo che ami ti stia facendo del male. Ma questo non è amore. Non sai a chi rivolgerti, ti vergogni, hai bisogno di parlare con qualcuno per capire cosa sta succedendo. È come uscire da una situazione di sofferenza e paura. Puoi chiedere aiuto ai centri antiviolenza. Associazioni di donne dove viene garantito anonimato e privacy dove puoi trovare delle donne pronte ad accoglierti, ascoltarti, fornirti informazioni e sostegno e accompagnarti verso una via di uscita. Sicura per te e le tue figlie e figli. I centri antiviolenza possono offrire anche la consulenza di legali esperti e la possibilità di messa in sicurezza grazie a case rifugio. I centri antiviolenza lavorano in una rete nazionale chiamata dire donne in rete contro la violenza. Ottanta in tutta Italia. Puoi contattare quello più vicino a te tramite un messaggio. Per conoscere il centro più vicino a te www.direcontrolaviolenza.it www.direcontrolaviolenza.it